La versatilità didattica di questo programma CAM Studio, gratuito per Windows, è fortissima perché ho la possibilità di creare dei video, di commentarli e quindi farli diventare materiale di studio. In questo caso sto spiegando come il programma VLC è un gestore di immagini e video. Alla prima apparenza VLC ha una barra di funzioni molto semplice, vale a dire avvia, torna indietro, stop, vai avanti, schermo intero, lista di presentazione e l'equalizzatore acustico. Invece in realtà se io apro la funzione visualizza controlli avanzati, ecco che il programma mi mette in mostra un'altra lista di attività, che è quella che mi interessa, perché questa è un'attività di registrazione e mi permette di registrare dal punto di interesse a un altro punto, come si faceva una volta con i registratori. Faccio un esempio, questo è un video che dura la bellezza di 2 ore e 47 minuti, improponibile, non si può, è uno spettacolo, non è un video, è un video sui conquistadores spagnoli, ma quando parla effettivamente di conquistadores bisogna andare più o meno al 46-47, da questo punto in poi, dove si focalizza il ragionamento, mi pare che sia il 46-47. Ecco, qua ci sono già due cose che posso fare, catturarmi questa immagine qua, che delimita la zona di influenza di questo fenomeno, e lo faccio con questa funzione qui, cattura immagini, vedete, mi fermo un attimo sopra il programma, esce fuori la scritta, io cliccando blocco in una immagine la parte interna del programma, non catturo tutta questa immagine, ma solo l'immagine, e lo faccio, cattura immagini, e si vede anche dove l'ha messa, là in alto si è visto il luogo di dove l'ha messa, per esempio io vado avanti a vedere, ecco, può essermi di interesse alcune altre cose, ecco per esempio il palazzo dell'imperatore, catturo anche questa immagine, vediamo, ecco, il regno di Montezuma, catturo anche questa immagine, eccetera. Se invece con questo programma VLC io sono interessato a catturare una porzione di video, ovviamente prima devo vederlo per sapere cosa voglio catturare, mi scrivo su un pezzo di carta, qui vedo la misura, vedo qui il punto esatto, i secondi dai quali vado a lavorare, a fare la cattura, per esempio voglio catturare da qui, per un minuto, non faccio altro che far partire il video, ecco, parte il video, ho cliccato la zona rossa e lui la sta registrando, bene, adesso ho ricliccato il pallino rosso e ho fermato la registrazione, senza nessun programma di video editing ho interrotto la registrazione, adesso andiamo a vedere dove trovare le cose che ho fatto, sia i video che le foto, che le immagini, per esempio, vediamo, c'è qualcos'altro, ecco, catturo questa, bene, ha catturato anche questo, adesso chiudo il programma, perché non mi interessa più, e vado a vedere dove sono questi file, perché li riutilizzo, in genere, nei sistemi Windows, i file sono nella cartella documenti, eccoli qua, questo è uno, ecco, scusate, è partito di sotto, eccolo qui, fine, visto? la porzione che ho catturato, eccola qui, la seconda porzione, eccola qui, la qualità è la stessa identica del file che avevo visto prima, visto? la cattura di una porzione di video, e adesso andiamo a vedere dove sono le immagini, che probabilmente sono nella cartella immagini, infatti, eccole qui, cartella immagini, le ha messe qua, eccola qui, dove l'ha messa? non lo so, eccola qui, questa è la prima immagine, vedete? grande come il video, questa è la, insomma, si vede benissimo, questa è la prima, questa è la seconda, questa è la terza, se io per caso, all'interno di questa immagine, fosse interessato solo a una porzione, allora voi nel DVD, avete cattura immagini senza installazione, quel programmino strepitoso, che vi permette di tagliare le immagini, e con quel programmino lì, voi potete andare a catturare una porzione di immagini, chiudo la registrazione, cliccando sul tasto blu, e quindi poi dopo voi a casa potrete rivedere, le funzioni che ho usato, alla prossima, Grazie a tutti.